Benvenuti nella cucina di Pasta Zara, la pasta italiana. Prepariamo insieme i vermicelli con asparagi e pecorino. Portate a bollore 3 litri e mezzo di acqua. Aggiungete 35 g di sale grosso, mescolate bene e solo quando tutto il sale è sciolto, aggiungete la pasta da cuocere, seguendo il tempo di cottura indicato sulla confezione. Girate con un mestolo qualche volta fino al giusto punto di cottura. Pulite gli asparagi e tagliateli a piccoli pezzettini. Fateli insaporire in una padella con poco olio extravergine d'oliva, regolate di sale e pepe, facendo attenzione a mantenere intatte le punte. Frullate i gambi con un po' di acqua di cottura della pasta. Scolate e con il composto condite la pasta, aggiungendo solo alla fine le punte. Guarnite il piatto con le scaglie di pecorino. Il piatto è pronto! Buon appetito da pasta Zara!